Au, che ti vuoi mangiare? Ma che mi stai a copiare? Che stai a fare? Eh che ne so, devo mangiare qualcosa Aspetta che sargo un attimo Andiamo dai Eccomi Senti, che ci volevo mangiare? Io spendo poco e mangio bene Allora, poco, spenderei poco rispetto alla qualità perché qua al ghetto si mangia benissimo però ti faccio farmi dar giro, qua è tutto street food e cucina, vera cucina giudeco-romanesca Andiamo? C'ho la vera cucina romana Romana, dai Uno dei filoni principali Guarda che spettacolo, vedi? Portico d'Ottavia Portico d'Ottavia E questo Teatro Marcello E' bello pure dal punto di vista che te fai una passeggiata Arrivi da Piazza Venezia Sbuchi qua Qua è perfetto Qua è perfetto per i morchià perché tu prendi una cosetta da magnetta, la porti qua e te la mangi Ma i torri non ce stanno però mo Ma ce stanno, ne sta, me ne trovavo Ma io dico in generale se volete acchiappare Se volete un tutorial come rimorchiare le donne Ce lo scrivete Budget che ci diamo Qua sei al centro di Roma quindi un bel panino Ma ci mangiamo una bella rosetta che costano circa 8 euro Poi ci mangiamo un bel hamburger Rosetta è tipica di Roma però Un bel hamburger fatto bene Che non è tipico di Roma No, che sta intorno ai 10 euro Mangiamo un bel pezzo di pizza rossa E poi se qua Se smaltisce un po' di coda Perché c'è sta Il famoso forno Il famoso forno Boccione Boccione Dal 1500 E qualcosa Da sempre Se riusciamo a smaltire qua Qua mangiamo pure una cosetta qua Ma stai calmo però Marlene Ciao Ciao Non c'è un sistema per stare a questa fila No E se infiliamo Dimo che tu sei No, non c'è Senti dire una cosa Sei giovane Iniziamo da un bel pezzo di pizza Qua Antico forno del ghetto Forno urbani Perché quando venga la sera è chiuso Si La sera è chiuso Eh Questa cosa è importante dirla La sera è chiuso I forni hanno orari Da persona comune La sera è chiuso Questo è aperto durante il giorno Fino a dopo pranzo Comunque è nuovo È dal 1927 Rispetto alla media È nato stesso anno dalla Roma Eh E c'è fila pure qua però È messa al desiderio È messa che la pizza oggi Aspetta Voi guardate che eravate famosissima Ciao Tu È finito Si sono comprati tutto C'è un angolino di pizza C'è rimasto No, guarda Si è appena Guarda Eccola è arrivata È arrivata la pizza Guarda Mi lo rompe tutto Non ci sono mangiato Due pezzetti di pezza Mi devi far assaggiare il cicalone No Questa che è Pizza romana No? No 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 Cicalone la fa bene Ma lo vuoi Ammazza Stiamo insieme Due pezzetti di rossa Un pezzo per uno Un pezzo io e un pezzo per uno Ma sì ma va bene così Parla male Allora l'avvocato che mi muoge Non lo sa che io lavoro Ma lo vado con il pezzo Non lo sa che lei 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 Da domani non ce ne sta più qua Non lo sa Non lo sa che lei Ma no No perché Sai perché No Ti spiego Tu gli dici che stai a fare Tu Gli dici che stai a fare l'attore Prostimo Stai a fare l'attore Questa è una scena del film Grazie Sei avuto? Ti hai fatto gli acquoli da bocca Grazie Assaggiamo va Allora qui è un classico Esci e mangi Dove ti pare Questo era un calzolaio Era un calzolaio Era un calzolaio E poi che è successo? E poi è il calzolaio Ah ho usato un gabbia però E poi è uscito Ah Senti Bassa e croccante Menti quanto scrocchia Mmm Mmm Guarda quanto è fida oh Guarda quanto è sottile oh Guarda quanto è sottile oh Sottile Poi il pomodoro ce n'è quantità come dice Il pomodoro è bello sucoso Buonissima Questa è proprio il top Top del top Ma che ora devi fare per il forno? Neuro neuro Ma che già ha tirato giù mezza serranda eh No il forno è aperto Dalla mattina Verso le 7-8 Perché vengono i ragazzini qua Questa è la scuola E chiude verso le 4 Vabbè ma C'ho 10 grammi di pizza eh Vai tranquillo Che ruba in sta dieta Se deve far fisichetto Assaggia Cottura perfetta Il pomodoro me l'hanno messo Questa secondo me Sono tra le prime tre di Roma Un'altra roscioli che sta qua dietro E un'altra in segreto Questa è il forno del campo dei fiori Poi la parte più bella cosa sai qual'è? Che tutti sottovalutano Esci E non ci sono di macchine Cammini Passeggi Capito? Al centro Penso che Se vuoi prendere una pizza Poi mangiano mezzo smog E' il traffico E' il casino La fila è aumentata Nel frattempo la fila da boccioni è aumentata Allora la pizza La pizza è buona E' annata Anvedi Tutto a posto Allora Qua io conosco tutti Lui Che è il numero uno Ha aperto una rosetteria eccezionale qua Ma se fanno una rosetta da te Ce la fai? Certo Te ce la devi fare però Con le mani tue Con le mani tue Che c'è si può mettere una rosetta? Tutto Tutto Pure la pasta Pure la pasta No 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 No hai portato il cicaro Ciao Ciao caro Ciao Oh grande cicaro Quella Qua C'è tutta cucina romana Ma dentro la rosetta si può mettere? Se può mettere Se deve mettere Se può mettere I porpetti Guarda io Per fare romano vero Vado a mangiare con la curatella Non so se ti piace No a me la curatella Questo che è? Questa è la scaloppina ai carciofi Eh una rosetta che scaloppina Scaloppina ai carciofi Non so scaloppina normale No Con lo stracotto usate Stracotto di manzo Eh buono buono Osso o rosetta? No rosetta 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 si Rosetteria rosetta voglio assaggiare Allora In goccia d'acqua Allora la presa Allora con lo stracotto Rosetta Ah lo stracotto Un piatto tradizionale giudeco romanesco È carne di manzo tagliata a cubi grossi E cotta con tanto pomodoro Quella là Pomodoro non so se lui ci mette l'aglio a cipolla O non ci metti niente? Ci mette la cipolla La cipolla La spacchiamo? La spacchiamo? Guarda che cortellone poi eh Maestro Guarda guarda Stracotto di manzo lo taglio un po' così lo mangi meglio Guarda che roba Lo vedi? Fatta roba Eh Si taglia col cucchiaio Certo il panino con una cosa tipica romana Ci avete un po' di crema di patate? No Ci aveva metto la crema di patate? Mettiamo ce la dai Ma proprio tanto per Panticchia Eh Perché Se no poi mi pentono nell'assaggiata No no Questa la fa lo chef È tipo purè la crema di patate No Lo fa lo chef che è un mio amico Kevin Olè Crema di patate con un po' di prezzemolo Quante rosette fa il giorno? 50.000 3.000 3.000 risette al giorno Ma c'è gente che preferisce alla rosetta pure altri pepani L'osso è buono eh L'osso L'osso sta bene L'osso secondo me è il miglior pane Si Qua la scaloppina non è sta fuori Qua la scaloppina Perché È vuoto come la rosetta dentro Ma è molto più croccante Fuori Bello croccante Si è più comodo È lungo perciò tipo Ah ci puoi mettere pure la cicoria vedi? Di passata non era male Eh È quello infatti che Lo metto qua se lo faccio più qualcosa Ce l'ha stata tagliata eh Tiè vedi che taglio Dai Ma che te Vai Ruben Ma no ma fai mangiare un lato Se il carciofi alla giudia ci ha portato Caccio e pepe che i carciofi Pasta che i carciofi Si Carciofi alla romana Carciofi alla giudia Insalata di carciofi Torta di ricotta e carciofi Innamare i carciofi Solo carciofi Solo carciofi Sto mangiamo uguale eh Eccola qua Guardate che bella Carme calda Sfilacciata da dentro Sembra un pool of pork Solo che manzo è col pomodoro Eh non usiamo questi termini stranieri Quando c'è una roba romana no Mmm Domani abbiamo un sacco di cose buone nuove Ho ordinato i graffi Ho ordinato la coda I graffi I graffi sono le guance C'è chi li chiama graffi e c'è chi li chiama gaffi questo come si chiama giudia giudia stracotto di manzo con salsa e pomodoro 8,50 euro ben spesi ci hanno mangiato un 2 ben spesi questi due 4,25 euro ma poi con i pezzi di stracotto che parte è questo qua del manzo? la spalla di manzo pensate che per un breve periodo della mia vita ho pure lavorato con Renato al suo ristrattere e era appena tornato a Londra e faccelo vedere il suo panino faccelo vedere dentro, apri un attimo vai, a me sta ripiando, grande sta ripiando il panino a mezzo a giudicato la faccia te ne sei mangiato un altro prima la pulpetta la pulpetta era per aprire a te sei da lui bello come e questo? buona 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 di che sa? le cicorie le cicorie le cicorie credetene no 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 è al secondo non fai esagerato al secondo ti mangi quella dolce dopo? certo quella che è la nutella certo è in base A me ti hai sgocciolato però te eh Adesso Siccome siamo qua Ti faccio mangiare uno degli hamburger migliori di Roma Diciamo 8,50 Debi lo stesso prezzo che siamo presi noi Abbiamo speso 1,50 euro 1,50 euro di pizza e già uno può fare merenda Prendiamo un hamburger o un panino Carino, un po' più gourmet qua Da Fonzi Perché a me Fonzi mi fa pensare A Fonzi quello che è P-Tace Infatti l'ha aperto per questo perché è stato americano Ah bene, questa cosa non la sapevo Eccoci Ma c'è Fonzi che fa ehi Sì sta là guarda, è un po' cambiato Però sta là Perché si è fatto crescere la barba Fonzi Puglio, una cosa un po' più tipo romana Pizza bianca, concia di zucchine Buona Vuoi quella? Qual è? Se no sta, vede pure il pastrami se lo vuoi assaggiare Il pastrami per al momento ci sono dei tachino Dei tachino, allora no Allora ci prendiamo dai Se provate quelli di punta abbiamo il Crispy Royal Che è il panino con panatura Cioè quel pollo con panatura in crosta di cereal Però è buonissimo Ci sta, se no lo smash Dai dai, famo il Crispy Famo il Crispy Crispy? Famo il Crispy che è Mezzo romano e mezzo americanizzato Perché c'è il pollo panato con i cornflakes Però sotto c'è la concia di zucchina Queste zucchine marinate con prezzemolo, basilico Loro ci mettono pure la menta, aglio che è buonissima e molto romana Quindi prendiamo quello Va bene dai Preso, preso Eccolo, pomodori Pomodoretto vai Insalatina Ha due insalate Eh sì Sia lattuga che songino Peperoncino fresco Che a te ti piace il piccante? Sì Il pepe non ti piace a te? Il pepe non mi fa un pazzire Preisco il peperoncino Quello è? Guacamole 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 Tartara E barbecue Poi ci mette la concia Ah questo è il pollo fatto con i cornflakes Sì sì Ecco la concia di zucchine Concia di zucchine sopra Schiacci E via il panino Top Mamma mia Che bestia Ciao Te lo divido due Sì sì Per forza Come facciamo? Devo assaggiarlo tutte e due Bello Ah Allora questo invece è pane tostato Salsa smash Penso sia ketchup maionese E il cedriolini E il cedriolini Questo ci hanno costretto a prenderlo Perché è la specialità Perché il nuovo è molto buono Poi ci stanno per mettere Hamburger schiacciato Con cheddar Questo è vegano questo cheddar sopra Allora hamburger cheddar Smash schiacciato E poi quello sopra che cos'è? È carne secca abrasata Carne secca abrasata Questa si viene con le patatine Il cedriolino La particolare siccome questo è un ristorante kosher E non si può mischiare carne e latte Il cedriolino è vegano Perciò sembra che è fatto con latte Ma in realtà è fatto solo con proteine vegetali Bravo So curioso di assaggiarlo Che assaggiamo per primo? So curioso di assaggiarlo Questo è un po' più delegato Questo è un po' più delegato Questa è un po' più delegato Andiamo dai smash Ah ma ha detto che il formaggio è fatto con il latte di cocco Latte di cocco Questo secondo me è equilibrato perfetto Sì perché è compatto Resenta la carne senza il formaggio Resenta la salsa Poi fresco Fresco perché c'è il pomodoro e l'inseratina Questo formaggio non appesantisce questo cheddar Fatto con latte di cocco E si tiene che smizzassi i panini È sempre buona Sì ho capito Provare se te ne mangi dieci Dieci smizzati Su cinque Patatina croccante Questo è quello leggero Ora c'è quello più pesante Questo i dai mozzi Questa è grosso Massiccio proprio Ma guarda i strati Questo è spettacolare Ma c'è quanto è buono questo regà Questo costa 12 euro 11,90 Ma li vale tutti È proprio buono Li vale proprio tutti Qua La differenza La fa la salsa barbecue Sì Ma pure il pollo Agro dolce E si sposa perfettamente col pollo fritto Io qui avrei pure fatto Un pane più romano Più duro Più duro Però pure il pollo è fritto croccante Siamo arrivati da Boccione Questa penso sia Veramente una delle pasticcerie più famose di Roma Sicuramente la più famosa del ghetto Che sta qua da anni E sforna dolci Buonissimi La cosa è che manco loro sanno le ricette Quindi ogni volta quello che ti mangi È diverso dalla volta prima E questa è la cosa bella Ci sono sempre file chilometriche Oggi siamo fortunati Ci ha detto bene Ci ha detto bene Perché a queste sono le Tre Alle tre inizia a essere un po' meno Comunque mi hai fregato Il forno ha già chiuso E sto alle tre Che ha ragione? Ah, le tre chiudeva Ma mica lavoro qua Scusa Ho detto che chiudeva No, quello fino ai quattro aperto Ti faccio vedere una cosa Già hanno venuto tutto Perché sai vedere Questa è una torta di amaretti Quindi è fatta solo con farina di mandorle Albume d'uovo e zucchero Queste sono crostate Cioccolato Cioccolato e quelle albicocche Loro sono famosissimi Per la crostata ricotta e visciole E la crostata ricotta e cioccolato Una petta o una roba? Una petta Questa Posso spiegare? Chef Ruben Lei è il padrone Questa È la pizza Di piazza Questa viene chiamata piazza Questa è la pizza di piazza Che praticamente Non è una pizza È un dolce È un dolce E La chiamano anche pizza di beridde Questo è il nome Pizza di beridde Dentro Dentro Pasta di mandorle Uvetta Oh chef ci sono le mandorle interne Spiegaci vuote che Spiegaci vuote che Questa è la famosa pizza ebraica È un dolce pieno di frutta secca Mandorle, candidi, uvetta e pinoli Che di la ricetta che è stata? È una ricetta Che si parla che è del 1500-1600 E infatti noi stavamo a dire che questo è il forno del 1500 Conservano la ricetta Io penso manco se gli offri due milioni di euro Da la tanno Questi sono i ginetti E là ci sono i biscottini si chiamano Quelli là con le mandorle Belli quelli Biscottini Biscottini Pure la pizza E pure quello la voglio assaggiare Quello di pasta e mandorle Ma la ricotta è vicior e è finita Te credo No non è che dormo Sono dalle 11 che siamo qua C'era una fila chilometrica Noi abbiamo aspettato che finisse la fila E poi invece è finito tutto Questo è al cioccolato però Questo è al cioccolato No ma no no Questo non c'è tanto a niente A quello che c'è Ginetti li vedo con l'uvetta Di solito sono anche al cioccolato Sono anche semplici E questo è il tortolicchio Classico dolce Che gli ebrei mangiano A? Quando si mangia il tortolicchio? A Purim A Purim Senti Nati Questo è il tortolicchio Tortolicchio Questa è pasta di mandorle Rola con lui Pazzarola Allora io ho anche la mia bisnonna Che lo faceva Ma ti racconta una cosa Lei faccia lo chef Lei faccia le pasticcelle Ha ragione Ha ragione Allora io ho una bisnonna Adesso non cucina più tanto Ma lei aveva 4 frigorifere a casa E cucinava tutto tutti i giorni E faceva il dolce del tortolicchio Una volta vado a staggiare Il tortolicchio E mi ha fatto Senti un sapore d'aglio Una cosa assurre Se era sbagliata Al posto delle mandorle Che c'era finito uno spicchio d'aglio dentro Mamma mia Ti giuro Che buono Buono Ciao Di vino Lo potremmo chiamare pure 10 kg in due ore Adesso dobbiamo assaggiare I biscottini I ginetti E la pizza del berino Ecco i ginetti Scusa 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 I biscottini Scusa I biscottini I biscottini La mia duda che oggi ha fatto Mi si è mangiato troppo Si è rimbambito oggi Ruben Ma no perché Ruben non si è mai informato Ma non è vero Mangia e basta Eh mangio e basta Ma dimmi te che mi devo sentire di Grazie 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 Tu non mi piacciono Una volta mi sono chiesto ma perché mi fai da altri gusti Tipo che ne so Nocciole e cioccolato Ma no i biscottini sono quelli perché dobbiamo Poi ci sono altre cose Poi ci stanno i biscotti Prendo il ginetto Un altro biscotto Top Adesso c'è il cioccolato C'è l'ueta Allora vogliamo assaggiare un ginetto al cioccolato E in pezzo te vincate Mi ride Qua mi svengo qua dietro Mi metto a dormire Ora andiamo qua A traslusione Ci siamo? Vai spiega tutto Ginetto al cioccolato Pasta frolla È pasta frolla il ginetto al cioccolato? Crolla con pezzetti di cioccolato Però fatto con olio invece che burro Giusto? Fatto con olio invece che burro E dentro cioccolato Tiè? Prego Dalle evie Scusa Non ho capito Sono arrivato io Mangano troppo Mmm Il mio preferito Questo E poi questa This is a Jewish pizza Pizza di Beride Prego prego This is a biscuit There is only raisin In spice Ci siamo? And we have the same one down here Ciao Che c'è i canditi dentro? Canditi Canditi Giasta sta già un pezzettino Ma quello è un candito particolare È l'unico A me i canditi che mi piacciono Questo è l'unico che mangi Non è quello 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 che mangi Questo è poetico Mazzo è vero Qua senti la storia in bocca Non l'avrei mai mangiato Lo sai È un candito È un candito diverso 4,50 3,60 3,60 Ecco l'ho fatto Ciao Ma guarda Sono venne per fare Da lunedì al giovedì Ma oggi non l'abbiamo Un pezzo Bello qua Cioè tu è sabita Vi qua Ti devi fare questa scala Dopo che hai mangiato Era finita praticamente Allora Dopo il dolce Ma prima della lavanda castrica Un bel caffè Buonasera Sera Buonasera Ciao Guardia di finanza Ce l'hai? Le gonfiate come stanno bene Una volta mi sono perse le cuffiette Pensavo di essere perse qua Ho ritornato una settimana dopo E mi sono attascata in pantalone Quindi ancora muro in fashion Adi offriamo un caffè Sì È venuto ha detto che gli hai fatto le cuffie C'è tuo cugino? No, no Ti offriamo uno a te Forza, forza Eh no Io ho detto Caffè, caffè 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 4 3 Prego Ma abbiamo il caffè Con silenzio sta Allora qua fanno un caffè buonissimo Perché usano un mix tra caffè brasiliano E caffè venezuelano Chi ha sì? E rumeno E rumeno Caffè rumeno Ma c'era paura lui Ma come ha detto Il caffè brasiliano Ma lo sai perché qui fanno un caffè buonissimo? Perché tutti quelli che dicono il cattivo Sono tutti morti Bravo Perché lui Li ha ammazzati Questa è una copertura Però è vero E là fa la crema di caffè buona Che ce ne mette un goccio sopra Vero? Ce stanno i carcioco Ce stanno i carcioco Io ho due amici Uno carcioco Ce stanno i certi cognomi E certi soprannomi brutti Che poi è pure peccato Se andiamo in agenza Potrebbe fare Mi serve Mi butta fuori per il locale Vengo io Si può fare No Mi butta dentro Ma c'è una fila Lì Che c'è biaggia No Bisogna metterli in ordine Lei Chi paga Allora Ci serve uno per buttare dentro No ma lo sai come gli fanno Allora Lei quanto deve sperare Lei è l'ultima Lei che deve No io ce l'ho da piatta Una pizza Venga avanti Capito Sai queste cose Favoritismi Ammi che male Aumenti lo scontrino medio Te credo Quelli che metti dietro Se ne vanno Secondo me No Iemenamo Iemenamo Così ti compri manco Quando iemeni comprano tutto Poi magari non torneranno Però Magari è in turista Quello viene a orla Mai più Ragazzi grazie 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 Chiudiamo il video In bellezza In bellezza Con la farmacia Oh complimenti Grande Di quello Mica come noi Giacchietti Quello si è messo A mai Adesso che sappiamo Stiamo a finire in farmacia Calcolo Stiamo a finire con la farmacia Che sappiamo Ci sappiamo Il biochetasi Facciamo pubblicità Biochetasi Alla cacciatore Se la casa farmaceutica Ci vuole sponsorizzare Noi stiamo qua Dove soldini Ci li potreste dare Andiamo Salve Biochetasi Tanto Eccolo Sì Guarda è bella Guarda Guarda che ha freschi Next month Dove sono sparato? Andiamo al parchetto A spararci Su la panchina Andiamo a sparar il parchetto Oh Guarda qua Tutti buttati Come una cosa Io sto tipo questo C'è la stessa Espezione di mia Vai apri È uscita? È uscita È uscita Ah Il odore spingnevo io Assaggiamo Come è? Un bel Salve limone La famosa medicina al limone Va bene Io adesso Me ne vado a dormire Io invece adesso Vado a fare una bella corsa Di 15 chilometri E poi direttamente in ospedale Bene Se vi è piaciuto il video Lasciate un commento Mettete un mi piace Ragazzi Seguite anche il mio profilo Cucina con Ruben Ah ma tu c'hai un canale Un canale Un canale Un canale Ciao a tutti Ciao Ciao